Buongiorno, in questa lezione ci occupiamo di capire come creare valore dagli open data. Gli open data generano valore originando centinaia di attività imprenditoriali e certamente stanno supportando le aziende già affermate a definire nuovi prodotti e servizi. Gli analisti hanno studiato una vasta gamma di esempi di come gli open data possano creare valore nelle organizzazioni pubbliche e private, nei mercati e nei prodotti e servizi in alcuni settori dell'economia mondiale. Per esempio, istruzione, trasporti, prodotti di consumo, energia elettrica e utilities, assistenza sanitaria, credito al consumo. La ricchezza delle open data potrebbe essere sicuramente ancora più importante e ancora più vasta. Il problema fondamentale è che certamente i discorsi legati alla privacy sui dati impediscono di arricchire ancora in modo cospicuo le open data ad oggi disponibili. Un'analisi effettuata dall'Associazione Italiana per l'Open Government ha identificato come prioritari tra gli interessi dei cittadini i dati relativi ai bilanci delle pubbliche amministrazioni, alle attività dei parlamentari e dei consiglieri regionali, provinciali e comunali, all'inquinamento ambientale, dati sanitari ed epidemiologici, trasporti pubblici urbani e interurbani, criminalità, dati elettorali, dispersione scolastica, mercato immobiliare e sanità. Una buona pratica dell'open data può apportare ad alcuni benefici che potremmo identificare come benefici sociali. Creazione di trasparenza e aumento di fiducia, coinvolgimento dei cittadini, possibilità per tutti di creare nuovi servizi informativi ed effettuare analisi di qualsiasi tipo attraverso i dati disponibili, partecipazione alla rielaborazione e allo studio dei dati, miglioramento dell'allocazione di risorse pubbliche, efficienza e miglioramento dei servizi pubblici, creazione di valore economico e sociale. Accanto ai benefici andiamo a individuare anche una serie di risparmi. Risparmi di gestione dei dati e quindi nel database, risparmi dal mancato sviluppo di applicazioni e servizi, risparmi per minori costi di analisi e reportistica, maggiori entrate derivati dalla vendita parziale o totale dei dati, risparmi derivanti dall'acquisto di dataset di dati pubblici, vendita di applicazioni web o servizi informativi realizzati con i dati liberati. Gli Open Data in generale costituiscono quindi una risorsa fondamentale per l'analisi di svariati tipologie di dati. Per esempio, dagli Open Data riusciamo a individuare una serie di informazioni legate all'ambiente, all'inquinamento ambientale e quindi consentire a una serie di studiosi o alle pubbliche amministrazioni stesse di fare analisi e incrementare in qualche modo le informazioni che possono essere messe a disposizione degli utenti. Ma al tempo stesso una serie di dati, sempre contenuti in Open Data, possono far evidenziare al cittadino quali sono per esempio le aree dove c'è una migliore sanità, dove sono minori i tempi d'attesa, dove sono minori il tasso di riospedalizzazione ad esempio a seguito di operazioni. Oltre a questi argomenti, ulteriori informazioni sempre legate all'Open Data possono essere utilizzate anche dalla pubblica amministrazione stessa per programmi di marketing territoriale, perché chiaramente i dati Open sono dati relativi e monitorati da tutte le pubbliche amministrazioni, facilmente integrabili con le fonti dati ufficiali come ad esempio l'Istat e quindi costituiscono sicuramente un patrimonio per migliorare l'erogazione di servizi e in qualche modo magari anche nell'ambito di identificazione di nuovi servizi a favore dei cittadini. L'utilizzo di Open Data certamente si coniuga perfettamente con l'esigenza di trasparenza, quindi la pubblicazione di dati e la messa a punto di una serie di strumenti statistici per il collezionamento dei dati e nonché l'analisi consente alla pubblica amministrazione ma anche al cittadino di avere una serie di informazioni certificate e disponibili sui quali prendere delle decisioni. Accanto al dato Open, che tipicamente è un dato quantitativo, talvolta georeferenziato, quindi anche teniamo in considerazione dell'aspetto geografico, come dicevamo prima, questo costituisce solo una base sulla quale innestare una serie di altri dati, nell'idea dei big data che provengono da fonti web, da fonti social, quindi dei social media, da articoli di giornale e chiaramente il compito dell'analista statistico è quello di mettere a punto delle metodologie che siano capaci in qualche modo di integrare al fine di ottenere da un'integrazione corretta di queste basi dati, una base dati che sia effettivamente ricca e promettente per lo studio di modelli statistici, sia descrittivi che predittivi.